Largo Aretusa è riqualificato, torna ad essere fruibile al transito e alla sosta pedonale. Concluso l'intervento di riqualificazione di Largo Aretusa in Ortigia è pienamente fruibile al transito e alla sosta pedonale. L'opera è uno degli interventi che stanno interessando il centro storico di Siracusa da un anno a questa parte. Finanziato per 320 mila euro con fondi della regione siciliana, l'intervento risponde all'avviato percorso di riqualificazione del centro storico voluto dall'amministrazione comunale per rispondere alla crescente domanda di fruizione estetica di luoghi pubblici centrali quali appunto il Belvedere di Largo Aretusa. Un progetto complessivo di riqualificazione, ha detto il sindaco Francesco Italia, che percorre il periplo di Ortigia con interventi mirati che vanno da Porta Marina alla Villetta Aretusa e attraverso tante strade come Castello e Logoteta, Tocca Piazze, quali quella della Turba, per finire nella manutenzione di infrastrutture come il Ponte Santa Lucia. Il risultato finale sarà quello di far convivere gli aspetti della vita quotidiana con quelli relativi alla città monumentale. I lavori non sono ancora ultimati a causa di ritardi nella consegna da parte della ditta giudicataria. Mancano infatti alcune manufatti e installazioni che una volta realizzate daranno la cifra non solo architettonica ma anche simbolica del nuovo Belvedere come sottolineato dal progettista Giuseppe Scalora. La sistemazione della riqualificata area include segni simbolici e metaforici. Con il sindaco del progettista erano presenti gli assessori consiglio Granate Gibilisco, il tecnico comunale responsabile del procedimento Emanuele Fortunato, Giuseppe Rosano, presidente di Noi Albergatori, l'associazione che ha proposto l'idea di riqualificazione. Grazie a tutti.